Buon pomeriggio a tutti e benvenuti sul mio canale Tutto dal web. Oggi domenica 6 novembre è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria di Filippi. Quello che un po' ha dato sospetto è stato l'atteggiamento e il comportamento di Arisa in un primo luogo molto assente nella puntata che è andata in onda oggi e dopo un discorso di Maria è scoppiata in lacrime. E su Twitter infatti sono tante le persone che chiedono cosa sia successo ad Arisa e del perché di questo comportamento. Forse perché Maria di Filippi sa qualcosa ma oggi in puntata ha dedicato bellissime parole all'insegnante Arisa che ancora oggi a distanza di tanti anni all'ansia dà prestazione prima di ogni esibizione. Avevo chiesto ad Arisa di cantarla così da un esempio ha spiegato agli allievi e al pubblico ma Arisa si è rifiutata magari gli do un esempio da seguire non da seguire. Così Maria dice smettila sei bravissima la cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare questo ti fa onore perché vuol dire che quando ti rimane la paura di sbagliare vuol dire che hai ancora tanto da dare quando non avrai paura vorrà dire che non hai più nulla da dare questo io lo penso davvero. Le parole di Maria di Filippi hanno scatenato una reazione veramente inaspettata da parte di Arisa che è scoppiata immediatamente in lacrime dicendo queste lacrime di merda scusatemi e un grazie ovviamente a Maria. Dopo però questo episodio Arisa pare però non abbia smesso di piangere perché i telespettatori hanno notato che la cantante è andata proprio completamente giù di morale o forse come io avevo il sospetto lo era già da prima. Così esce dallo studio ed entra con un paio di occhiali da sole per non far vedere agli altri che piange così il pubblico social e non solo anche quella casa si chiede cosa sta succedendo a Darisa? Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo se va nei commenti, lasciami un like e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!